Salos, il buon Vazio Fanchi, questo era Salos, buonasera ragazzi e ragazze, benvenuti al Palasporto di Lito Mano, una serata molto particolare con tanti ospiti, abbiamo sentito Carlos, adesso già l'opera Mogher e Rubens, alla batteria Tony Palmieri, io sono Pesce, RDF Firenze, una serata organizzata da un segretato giovanile. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Allora, scusate l'interruzione ragazzi, mozza per l'opera, dunque una serata organizzata dal comitato giovanile della Lega Ambiente dell'Arci di Contea, nell'ambito della prospettiva ambiente promosso dal comune di Comano. vi auguriamo buon divertimento, vi ricordiamo che l'incasso della serata, o perlomeno il ricavato della serata, verrà devoluto per iniziative appunto per la sala guardia dell'Arci di Contea. Buon divertimento! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e 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 tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e a tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e a tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e a 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 tutti. e 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 tutti.